Guardi, copiglia la punta, metti la punta e fa di bucchi. Facciamo di bucchi. Mi stendi. Mi stendi. Mi stendi. Mi stendi. Mi stendi. Mi stendi. Venga qua. Venga qua. Su un lettino, su un lettino. Si stendi. Copritemi. Ho scelato il riso. Aspetta. 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 Sia calma, sia calma. Rilasciate, rilasciate. Io sono caldi. Io sono caldi. Via. Facciamo l'anestesia. Via la punta, via la punta. Ho paura la cartanella, sta. Con la sacchetta vicino. No, aiuto. L'anestesia di stucco. Aspetta. Anestesia, aspetta. L'anestesia, per favore. No, continui a tre. Io l'anestesia. L'anestesia? Io no. Aspetta. La posa è fatta al cibo. Ma no. Ma no. Mi aspetta. Si, mi consigli di sfumirà. Ma no. Voi. Ma no. Mi aspetta. Ma no. Ma no. Mi aspetta. Mi aspetta. Mi aspetta. Ma no. Mi aspetta. Mi aspetta. Ma no. Ma no. No. mi raccomanda l'apparanzo digerente la pennellata la pennellata la pennellata gli basta questa cosa che cresciano i fili perchè? ma cosa ne sei messo? ma secondo me ti sto a montare ehi mi basta questa cosa lì sei un cinghiale ragazzi andiamo in bacio è usciuta buona però eh ecco qui tutta la mia bellezza e il flessore andiamo un attimo facciamo il dv che c'è